Buongiorno signora Teresa. Ciao Serena. La posso aiutare? Magari tesoro. Ma quanta spesa? Eh stasera devo preparare una mega scena. Perché? Come non la sai la novità? Tornano Sara e Marti da Londra. Ma per vacanza? Ma che vacanza si trasferiscono qui a Bevagna? Ma per vero? Eh no per scherzo. Sara e Marti. Finalmente una bella novità in paese. No. Va beh. Lo devo dire a tutti. Grazie. Va beh. Arrivederci. Sta arrivando una nuova storia italiana ancora più vicina a te.